Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di febbraio 2023. Il mago, amici della bilancia, nuovi inizi. La carta del mago è sempre una carta di manifestazione, è una carta che parla di qualcuno che ha tutte le risorse, le doti, le conoscenze e le possibilità anche di fare quello che si vuole, di concretizzare la realtà che si vuole. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il messaggio di più oroscopi, trovate il link al corso gratuito di Tarocchi e trovate anche il link alle letture semestrali per il 2023. Per chi invece volesse contattarmi può scrivere un'email a questo indrizzo. Allora ragazzi, partiamo con un 9 di denari, un 5 di coppe, abbiamo la carta della temperanza, il 2 di bastoni, il 6 di denari, il 10 di spade, vediamo, wow, e altre 3 carte che adesso vi dico quali sono. allora abbiamo poi un asso di bastoni, un 3 di spade e un 6 di coppe che voi non riuscite a vedere, ve li metto qui così, ok, così è meglio. Allora cari amici, direi che si inizia da una forte indipendenza, un forte stato di benessere e intende da un punto di vista fisico proprio, anche come forza fisica. Il 9 di denari è una carta di una persona single fondamentalmente, è una carta di una persona che è perfettamente in grado di gestire la sua realtà e che si sa autococcolare, è la carta dell'amor proprio, io la considero l'arcano minore degli amanti. Poi però c'è anche un 5 di coppe, devo dire che il 5 di coppe è sempre una carta che per certi versi ricorda un'occasione persa, una perdita, comunque una perdita emotiva. diciamo che può essere che non vediate che ci sono ancora due coppe in piedi da cui si può usufruire, non è ancora tutto perduto, è un po' come se il messaggio fosse questo. Abbiamo la carta della temperanza e qui parla di guarigione, parla di riportare in equilibrio quello che è il divino maschile con il divino femminile e vi dirò che molte volte quando c'è la carta della temperanza ho come la sensazione che qualcuno stia pregando, stia chiamando un aiuto di tipo divino, un aiuto di tipo celeste. È come se aspettaste un segno, la sento un po' così per capire come muovervi da questo 5 di coppe. Abbiamo poi il 2 di bastoni, il 6 di pentacoli e il 10 di spade. Quindi ho come l'impressione che qui si passi da una fase di sì ok sto bene, sono così, potrei avere di più perché qualche cosa mi manca, ho perso comunque qualche cosa, però cosa succede? Non so bene da che parte andare, non so bene come creare questo scambio equilibrato. Il 10 di spade è una bellissima carta, io trovo che sia una carta di fine sofferenza, è la chiusura del ciclo di sofferenza di questo 5 di coppe. Difatti poi qui vediamo che abbiamo un asso di bastoni che può essere un'azione, un inizio determinato, un'intenzione per guarire una vecchia ferita del passato. Ragazzi qui abbiamo un 3 di spade che è collegato comunque con questo 10 di spade. Guardate, ho come la sensazione che sia una lettura veramente di tipo spirituale per voi, dove non ci siano in realtà altre persone coinvolte se non voi, perché partiamo subito con la vostra energia. Andiamo a vedere con i militarocchi, vediamo se riesco a dirvi qualcosa di più preciso. 9 di... ok. Gli amanti wow e 9 di bastoni. C'è qualcuno che ha una certa barriera, un certo... guardate, il nome di bastoni normalmente indica una persona che ha paura di ricevere un altro colpo e quindi è sulla difensiva, però in questo caso ho un po' la sensazione che veniate, arriviate da un periodo di... di guarigione, da un periodo di equilibrio, di amor proprio, è come se aveste raggiunto un certo tipo di solidità interna e aveste paura di perderlo. È per quello che siete sulla difensiva. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Sette di bastoni e 4 di spade. Sì, di nuovo, una carta di difesa. Ho come l'idea che qualcuno qui, a livello pratico, a livello di amor proprio, stia bene, nel senso che si è fatto probabilmente una scelta per amor proprio, però qualche cosa si è dovuto perdere. Andiamo a vedere la temperanza. 4 di pentacoli, asso di pentacoli, cavaliere di pentacoli e 4 di bastoni. Sì, ho come l'idea che qualcuno qui speri di unirsi con questo cavaliere di pentacoli e ragazzi, c'è anche il 4 di bastoni, il 4 di pentacoli, l'asso di denari. È come se steste chiedendo agli angeli, probabilmente qualcuno sta facendo proprio dei lavori di manifestazione con il mago o di legge di attrazione, perché state cercando di manifestare una determinata persona. Voi avete in testa una determinata persona. Se avete già una relazione, ho la sensazione che vogliate che le cose siano un po' più in equilibrio. C'è una sorta di appagamento materiale, ma manca un appagamento emotivo probabilmente. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Sole al contrario e 7 di spade. C'è qualcosa qua che non si sa se dire o no. Sì, ho come la sensazione che ci sia una questione intima che si sta nascondendo, ma potreste essere voi. Ok, andiamo a vedere il 6 di denari. Imperatrice e imperatore, con un bel 6 di denari, ragazzi. Cioè, direi che è quella coppia perfetta. Coppia per destino, equilibrio sia monetario, sia di coinvolgimento all'interno della coppia. È una carta di realizzazione e arriviamo alla fine della sofferenza. Wow! Ma chi state cercando di manifestare? Fatemelo sapere poi nei commenti. Però guardate, è bellissima, eh? Andiamo a vedere il 10 di spade. 8 di bastoni, 9 di pentacoli nuovamente e re di coppe. Quindi ho l'idea che vi verrà fatta una comunicazione o comunque verrete a sapere qualche cosa. Non credo che sia l'intuizione, più proprio una notizia che vi arriverà o qualche cosa che magari vedrete sui social che, mi viene da dire, vi renderà pieni di orgoglio e vi farà anche innamorare. Il re di coppe potrebbe essere anche questo cavaliere di pentacoli che in qualche modo avete manifestato, l'imperatore. Il re di coppe rappresenta il sentimento maturo. E poi abbiamo un incontro, l'inizio. Andiamo a vedere l'asso. 2 di pentacoli, 3 di pentacoli al contrario, 5 di spade e 10 di pentacoli al contrario. Sì, ho come la sensazione che questo inizio sia con intenzione, sia molto passionale. Però, come vi dicevo, perché c'è questo 2 di pentacoli che è anche questa una carta in un certo senso di indecisione. Qui abbiamo questa serie di carta rovescio che indicano una sorta di blocco nell'energia familiare, di progettazione, di unione, di confronto. E qui ho come la sensazione che ci sia veramente qualcosa che è inerente all'infanzia da guarire. C'è ancora il cuore che piange per una ferita di infanzia. Andiamo a vedere qualche carta in più per questo 3 di spade. È un po' quello che c'è. Per certi versi è come se avete lavorato talmente tanto per manifestare che quando poi si manifesta vi chiedete ma è reale o arriva la botta. Andiamo a vedere il 4 di spade. 6 di coppe nuovamente e 2 di coppe. È una relazione passata. Un fidanzamento passato. Probabilmente è successo qualche cosa che non avete ancora guarito e non avete ancora perdonato. Andiamo a vedere 6 di coppe. 4 di bastoni. Può essere un matrimonio o una relazione stabile duratura. Però essendoci il 4 di bastoni può essere... No, scusate, adesso mi sono persa. Cos'è che ho volato? 6.4 di bastoni era qui. Allora, qua abbiamo... Adesso non le vedete già più. Ve ne metto qui sotto. Ok, allora, qui abbiamo 6 di coppe, 2 di coppe, 6 di pentacoli nuovamente. Poi abbiamo il 3 di coppe. Ve ne metto qua su. 3 di coppe. Fante di bastoni, carro al contrario e fante di spade al contrario. Sì, credo che siate stati traditi nel passato. E che è una ferita che ancora non avete guarito. 6 di coppe spiegata dal papa. Sì, può essere una relazione... Un fidanzamento. Guardate, prima l'ho detto sbagliando la carta perché pensavo fosse uscita questa qui e invece adesso è uscito il papa. Quindi sì, può essere che sia così. E abbiamo... Sì. Abbiamo un 7 di spade. Sì, qualcuno ha tradito la vostra fiducia o proprio è stato un tradimento. Insomma, tipo che la moglie ha tradito il marito, il marito ha tradito la moglie. Insomma, è una cosa che ancora non avete guarito e quindi c'è un po' di titubanza. Però ragazzi, guardate, imperatore, imperatrice, coppia per destino. Io credo che possa essere veramente una coppia in equilibrio, dove ci si dà la mano. Si viaggia uno di fianco all'altro, non uno davanti e l'altro dietro. Nell'ombra. Ok, fatemi sapere come vi risuona nei commenti perché è interessante questa lettura. Sicuro che non è per tutti, però è intensa. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo e poi una meditazione delle 101 meditazioni di Findorn per darvi spunti di riflessione. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che comunque sostengono il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni, con le iscrizioni. Quindi grazie a tutti. Wow! Ragazzi, anello di fidanzamento, partnership, ma non ci interessa, in questo caso è una lettura d'amore. Fidanzamento, eternità, completamento, unione. Wow, che bellissimo periodo! E anche abbiamo una carta di seduzione, di attrazione, di flirt, di appuntamenti, di agganci, di tentazioni e di terze parti coinvolte. Interessante. Però voglio i confetti se succede, eh. Ok, andiamo a vedere una carta delle meditazioni e vediamo qual è il messaggio per voi. No, queste sono troppe. Io ho le mani piccole e ho sempre l'abitudine di prendere mazzi grandi. Beh, non sempre, però con alcuni mazzi proprio mi chiedo poi perché li compro. Ormai sai che quando le cose cominciano ad accadere si susseguono a grande velocità e tutto si sistema perfettamente. Guardate, ho una gioia nel cuore, ho una sensazione di frizzantezza, di fermento, di novità, voglia di primavera, cambiamenti. Ma il tempismo deve essere perfetto. Quando l'inverno viene e ti circonda, ti sembra che non debba finire mai. Ma prima ancora che tu te ne accorga, la primavera comincia ad intrufolarsi senza darne l'occhio. Le giornate si allungano e la forza vitale sgorga, prorompe ovunque intorno a te. Prima che tu te ne renda conto, l'inverno se n'è andato e la primavera è con te, in tutto il suo splendore. Wow, questo è l'inverno, eh? Questo è l'inverno. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata di ispirazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!